Ci troviamo a Castel Romano, a 25 km dal centro di Roma, dove hanno sede alcuni dei laboratori dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Dopo l'istituzione nel 2016 dell'SNPA, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, questi laboratori sono diventati parte di un centro nazionale, perché, oltre a svolgere attività di ricerca e sperimentazione, sono il riferimento per le analisi e le misure in campo ambientale. L'SNPA, infatti, è stato istituito per rendere omogenee le attività di monitoraggio svolte nelle regioni, in modo che i dati di controllo sulle diverse matrici ambientali, ovvero aria, acqua, suolo, mare, biodiversità e specie, siano attendibili e comparabili. Per questo, le strutture dell'ISPRA lavorano per costruire una rete nazionale di laboratori accreditati. In questo tour vi accompagneremo nei laboratori della sede di Castel Romano, raccontandovi alcune delle attività scientifiche che costituiscono il fondamento per poter raggiungere gli obiettivi della nostra missione. Offrire soluzioni tecniche e scientifiche a sostegno delle politiche di sostenibilità ambientale in Italia.